Il comune di Bitonto ha accettato di buon grado la donazione di 70 palme da parte del ruvese Nicola Precchiazzi, titolare dell'azienda agricola I Due Pini, a cui rivolge il più sentito ringraziamento. Abbiamo impiantato 14 palme della specie Washingtonia al rondò in zona PIP, un rondò che era in stato di abbandono e quindi l'abbiamo voluto educare con queste 14 alberature. Serve il contributo di tutti i cittadini per mantenerle in buono stato. Altre palme saranno installate nella villa comunale, ne metteremo da 7 a 9. Le palme saranno piantate anche nel parchetto senatore marciale vicino via Piepoli, in risposta alla richiesta dell'associazione Vogliamo Bitonto Pulita, in zona Piscina, nel parchetto di Vietogliatti e all'ingresso di Mariotto. L'intento è quello di implementare il patrimonio verde comunale e migliorare la qualità della vita e del decoro urbano. Le associazioni ambientaliste locali che contattate telefonicamente non hanno ritenuto opportuno rilasciare dichiarazioni ai microfoni di Radio 00 sono preoccupate per la tutela della biodiversità. Hanno sostenuto in un comunicato stampa precedente alla delibera comunale del 16 giugno che la palma Washingtonia non si adatta al territorio e non possa recare alcun beneficio. A me preme sottolineare l'importanza di questo atto di generosità piuttosto che stare dietro a quanto ho sentito e ho letto sulla specie e sulla tipologia delle piante. Mi preme sottolineare questo atto di generosità perché se c'è qualche cittadino che ha voglia di fare un dono, il dono lo si accetta a prescindere. Se poi dobbiamo utilizzare il dono, l'atto generoso di un cittadino per farne strumentalizzazione anche politica, questa seconda cosa la mettiamo in separata sede e magari in un contraddittorio potremmo anche spiegarci e capire quali sono i reali motivi per cui alcune associazioni hanno avuto da ridire. Dopo la perizia del 17 giugno fatta dal geometra Salvatore Rienzio, istruttore tecnico di questo servizio, la piantumazione delle palme sul territorio è in corso. I lavori sono stati affidati alla ditta bitontina Carbone Graziana. Ci sarà chi penserà alla manutenzione delle palme e del verde pubblico. La manutenzione sarà a carico della prossima ditta affidataria. Noi stiamo per concludere il bando di affidamento della manutenzione del verde. Abbiamo fatto un bando per un intero triennio per un importo di 1.710.000 euro per l'intero triennio, quindi 570.000 euro all'anno. Quindi avremo una manutenzione stabile per i prossimi tre anni.